L'aspettativa di vita degli italiani è per la prima volta in calo nella nazione, un fenomeno legato ad una riduzione della prevenzione sanitaria nelle realtà della penisola. Per la spesa in fatto di salute siamo gli ultimi nel contesto europeo. La spesa sanitaria pubblica in favore della prevenzione in Italia continua quindi pericolosamente a scendere, ma in questo contesto il Molise è la regione dove a livello pro capita si spende di più, 2.226 euro. Rispetto alla vicina Campania, ultima tra le regioni del paese con appena 1.669 euro. La speranza di vita per gli uomini è stata lo scorso anno di 80 anni, 84,7 invece per le donne, spiega nel rapporto l'osservatorio sulla salute. Nel 2014 la speranza di vita alla nascita era maggiore, 80,3 per gli uomini e 85 anni per le donne. In provincia di Trento si riscontra per entrambi i sessi la maggiore longevità. La Campania, al contrario, è la regione dove la speranza di vita alla nascita è più bassa. Le cause di morte più frequenti sono le malattie ischemiche del cuore, responsabili di circa 75.000 decessi l'anno. Seguono le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del cuore. L'osservatorio nazionale conferma il trend in diminuzione delle risorse statali a disposizione nel comparto della sanità. La spesa pubblica è passata da 112 miliardi e mezzo di euro del 2010 a 110 e mezzo del 2014. Anche la spesa per il personale medico e infermieristico è diminuita in rapporto alla popolazione. In conclusione, sottolinea il rapporto dell'osservatorio, l'investimento in prevenzione in Italia è molto scarso. Negli ultimi anni si è girato appena sul 4% della spesa sanitaria totale.